giù 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 è proprio agile forse anche perchè magari essendo più piccola è meno meno piazzata la cattoletta cattoletta credo più dal bulldog giù 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 v v p io c fant nell we ok ok cina ok cavallo ok tutto questo guarda michael che salti fa paura salta anche te, me e lui fa salti un po' figa, vero? non mi e lui è la e lo faccio e lo faccio e lo faccio la faccio e qui